Musica Ciao a tutti, siamo Angela Bianco e Castrum in Quartet, formazione di musica etno-popolare con sede a Soveria Mannelli, città di cultura, innovazione e tradizione. Proprio innovazione e tradizione sono la nostra mission, unendo la passione per le tradizioni popolari ad una macchina mediatica unica nel suo genere, curata da Antonio Abruzzese e che dà popolarità e promozione ad ogni evento e ad ogni località che ci ospitano anche fuori dall'Italia. Vi presento il gruppo dei Castrum in Quartet e Angela Bianco. Ovviamente Angela Bianco ha la voce e alle danze popolari. Giuseppe Mazzotta ha i tamburi, Gabriele Perrelli ha le tastiere, Fabio Malomo ha le percussioni ed io chitarra e voce Carmine Mazzotta. La nostra, diciamo che quello che portiamo è la musica popolare del sud Italia quindi passando dalla Tarantella alla Tamurriata fino ad arrivare alla Pizzica in Salento. Proponiamo uno spettacolo abbastanza coinvolgente ed è giusto per le piccole location e comunque anche delle feste di piazza. È richiestissima ultimamente perché essendo poche persone riusciamo a muoverci molto facilmente. Questa sera siamo a Vibo Valencia in occasione della manifestazione Valencia in Festa e ringraziamo l'organizzazione di questa bellissima manifestazione, l'Associazione Valencia. Grazie. 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 Grazie.